Capitale italiana della finanza, ma anche delle idee innovative. Vengono infatti da Milano, secondo Union Camere, il 16% dei brevetti e oltre il 18% dei marchi depositati dall'Italia in Europa nell'ultimo decennio. Centri di questa innovazione sono l'Istituto Italiano di Tecnologia e il PoliHub, il cosiddetto incubatore di idee del Politecnico di Milano, dove le invenzioni vengono trasformate in progetti imprenditoriali, in start-up. Emblematica è la storia di Nicolas, 25 anni, ingegnere, originario delle Antille francesi. Da due anni all'Istituto Italiano di Tecnologia, Nicolas ha trovato il sistema, in collaborazione con un'azienda italiana, di produrre pannelli fotovoltaici con una stampante. Allora, questa stampante è esattamente la stessa che serve per stampare magazzini o carta da leggere, però noi l'abbiamo modificata in modo che stampasse anche le pannelli fotovoltaici. pannelli solari, diciamo. E quindi con questa stampante possiamo fare i pannelli che poi producono energia per lo smartphone, la sensoristica o display vari. Come sono questi nuovi pannelli solari fatti con la stampante e che vantaggio hanno? Questi pannelli solari sono di plastica, quindi hanno il vantaggio di essere molto flessibili, molto leggeri, il prezzo è molto più basso, 100 volte più basso del silicio che il pannello normale. possono essere integrate dappertutto e possiamo scegliere la forma che andiamo a stampare. Lei ha depositato un brevetto che consente di recuperare la sensibilità alla luce in pazienti affetti da alcuni tipi di cecità. Sì, precisamente. In particolare il contenuto del nostro brevetto è la possibilità di utilizzare polimeri semiconduttori. Sono delle plastiche sensibili alla luce e al colore e in grado di generare corrente elettrica, esattamente quello che i fotorecettori fanno nel nostro occhio in casi di perfetto funzionamento. Nel momento in cui i fotorecettori fossero danneggiati è possibile sostituirli utilizzando le nostre protesi. Ginko è il nome della start-up e anche il nome di questa invenzione. Come è nata? Ginko è nato per caso, è stata un'idea, è venuta il mio socio, una sua amica, gli ha detto che questi ombrelli si rompono sempre, dovrebbero farli di gomma. Lui ha iniziato a pensare a fare l'ombrello di plastica, più resistente degli attuali ombrelli. Ginko è un ombrello interamente realizzato in plastica, in plastica riciclabile, è flessibile, quindi si rompe meno rispetto agli ombrelli tradizionali. E il fatto di essere realizzato in plastica comporta anche tutta una serie di altri vantaggi in termini ambientali, quindi è realizzabile in plastiche biodegradabili. C'è un'attenzione a tutto il ciclo di produzione per abbattere le emissioni di CO2, insomma. E per dare un numero, tutto il metallo sprecato negli ombrelli buttati ogni anno nel mondo sarebbe sufficiente per costruire 25 torri Eiffel. Voi siete due studenti di economia all'ultimo anno e avete inventato questo braccialetto per bambini. Di che cosa si tratta? Allora, la nostra idea è basata su un braccialetto indossato dai bambini che monitora alcuni parametri vitali come il sonno, il movimento, la respirazione e il pianto. Questi parametri vengono inviati ad una stazione esterna che sarà appunto trasportabile dalla mamma in qualsiasi situazione e i dati saranno poi visualizzabili tramite una specifica applicazione su smartphone o tablet in modo che anche la mamma sia distante dal proprio bambino può avere sempre sotto controllo i suoi dati. Che tipo di aiuto dà Poliab a questi ragazzi? Il percorso attraversa varie fasi. Da una fase iniziale con le Call for Ideas, attualmente è aperto il nostro bando che si chiama Switch to Product. Vieni, porta un'idea e ti diamo una mano di supporto iniziale per vedere se può diventare un'impresa. Quindi è un tutorship iniziale. Poi quando l'impresa si fonda, trova dei finanziamenti, individuiamo manager che possano supportare le imprese fino alla parte più evoluta, quella di advisory. Quando l'impresa è finanziata, ha già clienti e sta sviluppandosi, allora lì occorrono professionalità e lì attiviamo realmente il massimo capacità che ha la rete Politecnico, integrando persone della Business School del Politecnico, integrando manager, società che finanziano. Quindi un network ampio di professionisti specializzati. Grazie.